Ciao a tutti, sono Nina, ho 28 anni e sono di Roma. Ho creato questo blog per dare consigli alle persone che hanno intenzione di adottare un animale, in particolare i cani, e che vogliono consigli pratici su come educarlo e su come farlo vivere al meglio. In ogni puntata, chiamiamola così, del mio blog ci sarà una rubrica diversa. Parleremo di molte cose, tra cui cibi, vaccini, le varie rassi, i vari comportamenti e tutto quanto. Quindi seguitevi in tantissimi, sarà una cosa molto simpatica e potrete chiedermi consigli, sarò molto felice di rispondervi. Un bacio, ciao a tutti e alla prossima.